Ciao Reclute, è appena uscito l'ultimo episodio della seconda parte della stagione finale dell'Attacco dei Giganti e con questo si è conclusa la serie? Assolutamente no, infatti ieri c'è stato un annuncio per quanto riguarda il suo proseguo e ho fatto un video a proposito che è uscito giusto poco fa, ve lo linko nelle schede e vi invito a guardarlo magari quando finisce questo video Allora io sono un attimino un po' scosso perché questo è un episodio davvero davvero della madonna a mani bassissime il migliore finora, c'è sempre stato questo progressivo miglioramento in cui ogni episodio è sempre stato un migliore del precedente però sempre di poco no, perché avevamo episodi tutti di alto livello ma eravamo comunque là più o meno questo invece è un episodio che si distacca qualitativamente a parer mio molto dagli altri sia dal punto di vista registico che da quello narrativo ah per quanto riguarda la narrazione abbiamo un ritmo molto più veloce rispetto a quello a cui siamo abituati dagli ultimi episodi ma davvero tanto? intanto è un episodio molto più lungo del solito perché abbiamo 24 minuti di episodio al quale non ci sono né la opening né la ending né le anticipazioni finali né i minuti di minutaggio di riassunto rubati all'inizio episodio e già solo con sta roba sono almeno 6-7 minuti in più del solito facendo due calcoli e in più succede davvero un casino di roba ma davvero tantissima bello 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 pieno andiamo a vedere quello che è il famoso flashback che avevano saltato tempo fa in cui vediamo come Mikasa, Eren e tutti gli altri vadano per la prima volta ad esplorare il mondo esterno è la prima volta a partire dal timeskip in cui vediamo il mondo esterno e Paradis scontrarsi culturalmente così forte vediamo infatti come i personaggi impazziscono vedendo cose semplici come magari una macchina, un gelato eccetera addirittura Sasha e gli altri cercano di dar da mangiare delle carote quasi ad un'automobile perché pensano sia una sorta di cavallo mucca è un episodio nel quale scaviamo molto a fondo nella mente di due personaggi, Eren e Mikasa e soprattutto si tratta del loro rapporto come non è mai stato fatto finora vediamo Mikasa che riflette su come Eren sia cambiato o almeno su come la gente pensa che lui sia cambiato ma magari in realtà è sempre stato così tra l'altro grazie al doppiaggio dell'episodio riesco a capire che questi pensieri vengono effettuati da Mikasa perché io ero convintissimo leggendo il manga che fossero dei pensieri di Armin perché di solito quando c'è una narrazione di questo tipo con i balloon descrittivi appunto il narratore immaginavo fosse Armin perché canonicamente è lui invece no è un pensiero che fa Mikasa il personaggio di Eren è in tutta la durata di questo episodio molto pensieroso lo vediamo guardare nel vuoto lo vediamo molto triste e molto assente come appunto se stesse pensando a qualcosa di molto più grande di quello che sta succedendo ricordiamo che si trova per la prima volta nel mondo esterno per quanto lui ricordiamo abbia dei ricordi del padre e quindi sia meno stupito di tutti gli altri per cose come per esempio un gelato buona parte di questo flashback riguarda il lato politico chiaramente gli abitanti di Paradis si sono riuniti a Marley per entrare in contatto con gli Azumabito i quali vogliono farli collaborare con un'associazione la quale cerca di difendere gli abitanti eldiani che si trovano rifugiati nei vari paesi infatti vengono continuamente eseguite delle analisi del sangue per andare a cercare il sangue eldiano anche al di fuori dei distretti di isolamento visto che varie persone sono riuscite a scappare ad accoppiarsi con persone non eldiane e a trasmettere però il loro sangue e questo è chiaramente un grave problema visto che ovviamente se scoprono che sei eldiano benché ti vada vieni messo in un distretto di internamento se scoprono che sei scappato e ti sei accoppiato magari con una persona non eldiana è ancora peggio comunque durante l'incontro con gli Azumabito a un certo punto Eren esce via, scompare e Mikasa va a rincorrerlo lo trova che piange mentre guarda un accampamento con dei rifugiati dei profughi di guerra con i quali Eren, Mikasa e gli altri personaggi chiaramente si possono immedesimare in quanto, lo dice anche Eren hanno perso la loro libertà per colpa della guerra è la stessa cosa che è successo a loro quando è stato distrutto il muro a Paradis ed è bello vedere questo contrasto in cui abbiamo qua nel passato Eren che empatizza moltissimo con queste persone è un futuro dove Eren le sta sterminando a sangue freddissimo quindi è un episodio che ci dà molto da pensare e soprattutto dopo questa scena abbiamo un confronto fra Eren e Mikasa dove lui le chiede che cosa lei provi effettivamente per lui se gli vuole semplicemente bene perché fa parte della sua famiglia o se c'è sotto un sentimento di tipo romantico ed è la prima volta, per quanto chiaramente era chiamatissima che vediamo effettivamente trattato il rapporto fra i due protagonisti da un punto di vista romantico comunque Mikasa gli sta per rispondere che Eren in realtà è la sua famiglia ma vengono interrotti da uno dei rifugiati che li invita a bere con loro e qua c'è una bellissima scena dove appunto Eren, Mikasa e tutti gli altri vanno a bere assieme si ubriacano e festeggiano con i rifugiati che è una scena molto significativa perché vediamo questi ragazzi che sono stati tormentati per tutta la vita per la prima volta a prendersi una pausa a festeggiare, bere e passare una serata spensierata proprio come dei ragazzi normali tra l'altro un'altra riflessione importante che fa Mikasa all'inizio di questo episodio è legata a ciò che le risponde a Eren e si immagina che in qualche modo avendo risposta a Eren qualcosa di diverso che chiaramente equivale a dire dirgli di provare qualcosa nei suoi confronti magari le cose adesso sarebbero andate diversamente ah successivamente c'è un insieme di scene che vengono messe una dopo l'altra che mettono un fottio di carne al fuoco a parer mio da una parte abbiamo il confronto fra Eren e Flock dove Eren spiega a Flock come appunto voglia sterminare il mondo esterno e uccidere tutti quanti e tra l'altro vediamo molto interessante questa cosa come Flock reagisca quando Eren gli dice questa cosa perché noi abbiamo visto sempre Flock ragionare molto a sangue freddo anche lui però quando Eren gli dice per la prima volta che vuole sterminare il mondo Flock è scioccato non la prende proprio con tranquillità e oltre che con Flock vediamo anche Eren parlare con l'istoria allora questa è una scena molto molto discussa molto complessa da analizzare bene e ha scatenato davvero un sacco di casini anche quando uscì nel manga perché boh è aperta a un sacco di interpretazioni che in realtà non è che vadano a parare da molte parti dunque la cosa importante davvero del dialogo fra i due è che nonostante Historia sia disposta a sacrificarsi per il bene di Paradis Eren non è d'accordo con ciò Eren non vuole che lei si sacrifichi e vuole comunque andare avanti col suo piano che appunto racconta anche Historia e lei dice come sia disposto per farla soffrire meno perché chiaramente dovrebbe tenere dentro di sé un peso enorme di modificare i suoi ricordi in modo da farle dimenticare questa cosa e non farla soffrire perciò e infatti se ci fate caso Wandoni Paths vediamo Eren che spiega a tutto il popolo di Myr come voglia sterminare il mondo Historia è tranquillissima ha una faccia serissima e non sconvolta come tutti gli altri perché sapeva già del suo piano non so se qualcuno ci ha fatto caso però that's why inoltre sempre per ritornare al rapporto romantico fra Eren e Mikasa ci ricolleghiamo a una scena in cui Eren parla a Zeke dei suoi mal di testa che appunto si pensava fossero dovuti a questo rapporto di schiavitù fra Ackerman che scopriamo essere una boiata pazzesca perché Zeke dice che non ha mai sentito dire una cosa del genere anzi dice chiaramente semplicemente tu guarda piace a Mikasa lei disposta a tutto per te questo è il motivo anche se Eren chiaramente ha 4 anni rimanenti di vita per via della maledizione del gigante quindi non ha molto tempo per poter pensare a una vita amorosa e a un futuro magari con lei madonna ragazzi c'è davvero un sacco di carne al fuoco in questo episodio c'è davvero un fottio di roba nella scena conclusiva che forse è la più aspettata da tutti soprattutto dal punto di vista grafico vediamo il rumbling vediamo i colossali che stanno attraversando il mare e già leggendo il manga ci si chiedeva come cavolo avrebbero attraversato il mare i colossali adesso che c'è l'anime tutti i fan anime only si stanno chiedendo la stessa cosa stavo vedendo prima Victor Laszlo che faceva varie ipotesi e sì effettivamente i giganti nuotano in acqua e nuotano anche velocissimi tra l'altro e c'è questa bellissima scena resa davvero molto bene dal punto di vista registico sia per quanto riguarda le host i doppiaggi e anche la pura qualità grafica perché è altissima cioè una CGI fatta davvero benissimo vediamo appunto la flotta mondiale quindi la flotta più forte del mondo che comincia a sparare in acqua contro i colossali con risultati scarsi perché ne viene abbattuto qualcuno però parliamo di milioni di colossali che vanno a distruggere completamente tutta la flotta navale e fanno scappare tutta la flotta di terra che chiaramente capiscono di non avere la benché minima speranza contro la marcia l'altra è stata gestita dal punto di vista registico un po' diversamente dal manga cioè il manga non è perfettamente lo storyboard dell'anime in questo finale preciso ragazzi nel resto dell'episodio sì chiaramente ah e vediamo per la prima volta mi sa sì la prima volta il gigante di Eren da davanti e vediamo anche la sua faccia che è resa in CGI devo dire che è fatto abbastanza bene idem la marcia ragazzi cioè non c'è nulla da dire dal punto di vista grafico è davvero ben ben fatto cioè top episodio non gli trovo davvero una pecca eccelli in tutto dalla narrazione alla regia alla pura grafica alla CGI che è fatta bene all'introspezione dei personaggi al rapporto fra Mikasa ed Eren davvero davvero top lavoro per mappa tra l'altro se volete confrontarvi direttamente con me su questi episodi anche senza fare spoiler ovviamente io vi aspetto in live su Twitch perché davvero potrei parlare per ore di questo episodio ma non ho tempo purtroppo e niente ragazzoli per oggi è tutto io vi invito a farmi sapere cosa ne pensate di questo episodio anche se immagino che i pareri siano abbastanza positivi oppure boh magari mi sbaglio e vi ha fatto cagare non lo so ditemi voi vi invito a lasciare un mi piace come al solito per supportare il mio lavoro e iscrivervi al canale per non perdervi alcun contenuto riguardante il mondo manga anime e l'attacco dei giganti in generale e niente come al solito ragazzuoli io vi saluto e vi lascio i video che vi verranno proposti nell'end card e vi lascio i video